Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Qui ci occupiamo di Linux e in ogni puntata vediamo una piccola pillola che risolve e affronta un compito ben specifico. In questa puntata affrontiamo una situazione abbastanza comune che è l'esaurimento dello spazio su disco. Quindi vi presenterò uno strumento semplicissimo da utilizzare, molto molto comodo, proprio utile per gestire lo spazio occupato, quindi per fare un po' di pulizia sul disco fisso della nostra Linux Box. Prima di iniziare vi ricordo di mettere un bel mi piace al video per supportare il canale, iscrivetevi se non siete già iscritti, mettete la campanellina per non perdervi nessuna delle nostre pillole e iniziamo. Il programma che andremo ad utilizzare si chiama ncdu, è un programmino veramente molto molto semplice da usare, molto veloce, abbastanza efficiente e che vi consente di andare a esplorare il file system ordinando le cartelle per spazio occupato e quindi puoi andare a cancellare cartelle e file che vogliamo eliminare. Come input vuole la cartella su cui lavorare, quindi potete lanciarlo sulla cartella radice, esaminerà l'intero albero del file system oppure su una cartella specifica. Per esempio, ai fini di questo video ho creato in var una cartella apposta con dei file pronti da cancellare per farvi vedere come funziona il programma. Quando lo lanciate, lui analizza adesso ovviamente, è stato molto veloce perché la cartella era piccola, potrebbe metterci qualche minuto sulle macchine più grandi, però comunque non vi preoccupate, lui lavora, alla fine quando ha terminato la sua analisi vi presenta un rapporto di questo tipo, dove come vedete abbiamo lo spazio occupato dalle varie cartelle e anche dai singoli file, in cima quelle che occupano più spazio, quindi nel nostro esempio dir uno è quella più voluminosa, quindi è la prima da mettere sotto i riflettori, ci posso andare dentro, la navigazione si fa con invio e con le frecce, quindi super intuitivo. In questa cartella vedete c'è un file che occupa un giga, supponiamo che io lo possa cancellare, lo vado a cancellare con D. Quando do il tasto D su una cartella o su un file lui mi chiede una conferma, se devo cancellare molte cose posso dirgli di non chiedermi più le conferme, ovviamente usare con estrema cautela, altrimenti vado semplicemente a dirgli yes, cancella e a questo punto, come vedete lo spazio si aggiorna, se cancello un altro file supponiamo che io possa cancellare anche questo, la cartella vedete che scende in classifica, adesso è dir3 quella che occupa più spazio, posso andare anche lì dentro e eventualmente cancellare dei file anche da qui se non mi servono, posso cancellare intere cartelle, quindi per esempio diciamo che dir2 non mi serve, quindi la vado a cancellare e così via. Quindi fondamentalmente come vedete è molto 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 intuitivo, fa esattamente quello che vi aspettate nel modo in cui vi aspettate che lo faccia. Quando avete finito di esaminare il file system, pulirlo e rimuovere i file di troppo, potete premere Q e verrete riportati alla linea di comando. Questo è tutto ciò che ho da dire sull'utility ncdu, vi esorto a installarla, apt-get install ncdu su Debian, provatela, utilizzatela, come vedrete molto comoda per tenere sotto controllo l'uso dello spazio su disco. Se volete un approfondimento sul file system di Linux, su cosa potete cancellare, cosa no e se ci sono delle cartelle particolarmente critiche a cui prestare attenzione quando fate pulizia, fatemelo sapere nei commenti e vi faccio un video sul file system di Linux come organizzato. Per oggi è davvero tutto, come al solito vi ricordo di mettere un bel mi piace al video se l'avete trovato utile, iscrivetevi al canale e io sono The Linux Nerd, ci vediamo alla prossima puntata, ciao! Grazie!